A meno di dieci giorni dall'inizio delle celebrazioni a Gatine c'è ancora un buon margine di incertezza sul programma dei festeggiamenti in onore della patrona di Catania. È sicuro però che non assisteremo ad alcuna processione tra le vie della città in accordo con quanto stabilito dalla CEI per l'intera Sicilia. Anche le carrozze del Senato rimarranno a Palazzo degli Elefanti e le Candelore non potranno andare in giro. Su questo punto si è accesa una polemica nei giorni scorsi. Sette associazioni dei Cerei a Gatine hanno indetto una petizione dopo aver richiesto, con esito al momento negativo, di poter adottare delle soluzioni che prevedano un'uscita in piazza Duomo del busto reliquario per la giornata del 5 febbraio e l'esibizione delle Candelore nelle chiese di appartenenza. La presidente del Comitato per i festeggiamenti in onore di Sant'Agata Mariella Gennarino su questo fronte ha risposte secche che rimandano alle disposizioni anti-covid valide a livello regionale. Il generico no agli assembramenti sembra non essere in alcun modo conciliabile con le richieste formulate da una parte della cittadinanza che vorrebbe ristabilire un contatto più fisico con Agata. La diocesi, dal canto suo, non ha ancora fornito le specifiche per le celebrazioni liturgiche in cattedrale. Lo scorso anno si sono svolte in forma ridotta con la sola partecipazione del sindaco per quanto riguarda le autorità civili e con la formula già sperimentata della diretta streaming è quasi certo che sarà riproposta anche per questa edizione.